Allora, come sindacalista cosa si aspetta da questa convention? Che energie servono per il lavoro? Sicuramente non si può più vivere né di rendita, né di rendita di rappresentanza, né di rendita politica, né di rendita finanziaria. Tutti i nuovi soggetti politici che si propongono per discutere del sociale che avanza, di una società in cui i corpi interventi facciano la differenza, a noi ci interessa. Il progetto di Stefano Parisi perché le incuriosisce? Scusi, no? Il progetto di Stefano Parisi perché le interessa? Mi interessa perché comunque ci hanno convocato, ci hanno chiamato e vogliono confrontarsi alla pari con le organizzazioni sindacali. Noi siamo disaperti a tutti.